Siamo qui con Fabrizio, direttore tecnico del Teatro Verdi di Pordenone, al quale vorremmo chiedere che cos'è un golfo mistico. Il golfo mistico in teatro è lo spazio adibito al posizionamento dell'orchestra durante gli spettacoli solitamente di lirica. La lirica occupa lo spazio del palco, lo spazio tradizionale del palco, ma siccome la musica non è amplificata da supporti sonori tipo CD o altre cose pre-registrate, ma in realtà è dal vivo, l'orchestra, l'orchestra di musica classica, si posiziona in uno suo spazio che è appunto il golfo mistico. Ci siamo spostati qui in sala perché proprio sotto di noi, qui in Teatro Verdi di Pordenone, sotto di noi si trova il golfo mistico, la bucca dell'orchestra, detta anche del Teatro Verdi. E' semplicemente in tutti i teatri, è fatta così, davanti al palco, è sotto il livello del palco stesso, l'orchestra si posiziona qui sotto e il direttore ovviamente davanti a loro, che dirige. In questo caso qua a Pordenone le pedane, lo spazio proprio qua, le sedie della sala si abbassano, vengono coperte da un tavolato e l'orchestra si posiziona qui, 50-60 elementi di orchestra stanno comodamente a suonare sotto di noi, dove siamo noi adesso.